Inizieranno con molta probabilità il prossimo 10 marzo a Felitto i lavori per il ripristino e l'adeguamento della strada San Vito-Serra, con un mese di ritardo rispetto al previsto. La proroga è stata stabilita dopo che la ditta affidataria dell'importante intervento, che cambierà radicalmente lo stato della strada, migliorando i collegamenti da e per il centro urbano, ha manifestato difficoltà a rispettare i tempi a causa delle piogge di fine anno. Dunque i lavori inizieranno a metà marzo e consentiranno di sistemare la carreggiata rendendo più facili gli spostamenti. L'intervento per 1 milione e 400 mila euro è stato finanziato dalla Regione Campania con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 nell'ambito del progetto per la sistemazione di molte infrastrutture stradali campane e salernitane che risolveranno nei prossimi mesi molte criticità. Grazie.